Il deserto quaresimale ci aiuta a dire no alla mondanità, agli idoli, ci aiuta a fare scelte coraggiose conformi al Vangelo e a rafforzare la solidarietà con i fratelli. Prima della recita mariana dell'Angelus, Papa Francesco si è soffermato sul tempo della Quaresima e inaugurato con il mercoledì delle Ceneri. I 40 giorni che Gesù trascorse volontariamente nel deserto, affrontando Satana corpo a corpo, ci ricordano infatti che questo è un tempo di combattimento spirituale, ci invitano a rimetterci sulla strada che conduce alla vita. Nel rumore si sentono solo le voci superficiali, ma nel deserto possiamo scendere in profondità, dove si gioca veramente il nostro destino. E' proprio in quel silenzio che è possibile ascoltare la voce di Dio attraverso una lettura costante delle scritture e rinnovare con maggiore consapevolezza l'alleanza battesimale e gli impegni che da essa derivano. Alla fine dell'Angelus alcuni senza tetto hanno distribuito un dono del Pontefice per i fedeli presenti in Piazza San Pietro, un piccolo libretto dal titolo «Custodisci il cuore». E lì ha chiarito Papa Bergoglio che si gioca la partita delle scelte quotidiane, tra bene e male, tra mondanità e Vangelo, tra indifferenza e condivisione. Chieste infine preghiere per la settimana di esercizi spirituali, ai quali prendono parte da questo pomeriggio ad Ariccia Papa Francesco e i membri della Curia Romana. Grazie a tutti.